Come vita mia, fagli e scin, la storia di Pinocchio è giunto il momento di presentare proprio a lui lo strumentante, lo frizzaldino, il grande e l'unico MIGO REERI Oh Gioia Facciamo un applauso ai festeggiati Salvatore Pietro Allora, Salvatore Pietro dove sta? Ecco qua, questo è Salvatore Pietro, eccolo qua Sono sportivi adesso, sono sottili vestiti così Ecco qua